Non temete la povertà, come il giovane ricco, perché quando i beni materiali entrano nel cuore e cominciano a guidare la vita, la si perde. Non temete di servire il più abbandonato, il più malato, il più piccolo, perché così state servendo Gesù in modo superlativo. E nel confessionale non abbiate paura della misericordia, non stancatevi di perdonare. Papa Francesco ha parlato come un padre a sacerdoti, consacrati e seminaristi della piccola chiesa che è in Cuba, raccolti nella settecentesca cattedrale dell'Havana per i Vespri e Domenicali. Dopo aver ascoltato il saluto dell'Arcivescovo della Bana, Cardinale Ortega, che ha parlato della povertà della chiesa cubana e la toccante testimonianza di una religiosa, Soria Leni, figlia della Carità, impegnata nell'assistenza dei malati, il Papa ha lasciato il discorso preparato e ha preso spunto dai due interventi per una meditazione a braccio, nella quale ha definito il confessionale luogo privilegiato per il sacerdote, dove appare il più piccolo. Quando un uomo o una donna vi mostrano la vostra miseria, fate attenzione che è la stessa che avete voi e Dio vi ha salvato. Non lo punite, pensate che voi in quel momento avete un tesoro tra le mani, che è la misericordia del Padre. Prima dei Vespri il Pontefice ha visitato il Presidente Raul Castro nel Palazzo della Rivoluzione. Dopo l'incontro privato e lo scambio di doni, il Papa e il Presidente si sono affacciati dall'ingresso principale per un saluto. Prima di pranzo, in forma strettamente privata e senza telecamere, Papa Francesco aveva incontrato per 40 minuti il Comandante Fidel Castro nella sua abitazione.